direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto oggi martedì 24 agosto il jackpot ha raggiunto la cifra di 71 milioni 306 mila 366 euro le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo la via l'estrazione del concorso numero 101 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire i sei numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero ed il primo numero estratto è il numero 43 siamo al secondo numero con super enalotto si inizia già a vincere e il secondo numero estratto è il numero 66 il terzo numero sta arrivando e il terzo numero estratto è il numero 12 pronti per il quarto numero il quarto numero estratto è il numero 48 e adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite e il quinto numero estratto è il numero 63 è il momento di incrociare le dita perché stiamo per completare la sestina vincente e il sesto numero estratto è il numero 27 dopo i sei numeri che assegnano il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme a cinque numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 e il numero jolly di questa sera è il numero 18 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly 43 66 12 48 63 27 numero jolly 18 e ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre sì perché superstar moltiplica le vincite super in all'8 fino a 100 volte e premiamo anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti? eccolo il numero superstar di questa sera è il numero 22 ricontrolliamo tutti i numeri estratti del concorso numero 101 con la sestina vincente in ordine crescente 12 27 43 48 63 66 numero jolly 18 numero superstar 22 l'estrazione di oggi martedì 24 agosto termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate e ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 71 milioni 300 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 101 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del super enalotto assegna 391 mila 551 vincite vi ricordo che il jackpot in palia è di oltre 71 milioni 300 mila euro sarà stato centrato il 6? il 6 di super enalotto questa sera non è stato realizzato e il jackpot cresce ancora per arrivare a 72 milioni 400 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6 nessun 5 più 1 i 5 sono 4 e vincono 42 mila 471 euro ciascuno i 4 sono 548 e vincono 325 euro ciascuno i 3 sono 20.358 e vincono 25 euro ciascuno e i 2 sono 322 mila 975 e vincono 5 euro ciascuno ed in questo concorso sono state assegnate ben 12.692 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuna scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella nessun 5 stella all'unico 4 stella vanno 32.588 euro i 3 stella sono 131 e vincono 2585 euro ciascuno 100 euro vanno ai 2268 2 stella 10 euro e 14.437 1 stella e 5 euro e 30.829 zero stella vi ringrazio per essere stati con noi Super Enolotto vi dà appuntamento a giovedì 26 agosto giocheremo per un jackpot di 72 milioni 400 mila euro arrivederci grazie a tutti